Questa sera alle 22 presentazione ufficiale del Crotone in Piazzale Ultra, un'occasione per conoscere da vicino la Nuova Rosa con tanti giovani, molti dei quali all'esordio in Serie B, che dovranno dare continuità ad un campionato importante dopo i play-off disputati nella passata stagione. Abel Gigli, un difensore in ordine cronologico, l'ultimo arrivato, ci racconta della sua esperienza con il Nova Goriza e delle differenze tra i due campionati. Ma sì, ci sono alcune differenze per quanto riguarda soprattutto il modo di interpretare la partita, soprattutto a livello tattico. Qua in Italia comunque c'è una maggiore organizzazione rispetto a là. Comunque è stato comunque un buon campionato, perché comunque le squadre a livello tecnico, a livello fisico sono preparate. Senza nessun fraintendimento, tu sei nato in Italia? Sì, 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 io sono nato in Italia, sono nato a Bussarsizio. Comunque i miei genitori sono di origine, sono somali, cioè mio papà è metà italiano, quindi per quello ho il cognome italiano. Cioè mio nonno è italiano, comunque sono italiano, ma le origini sono da Somalia, quindi sono anche fiero del mio paese. Ci mancherebbe altro, è importante. Le tue caratteristiche? Ma sono un difensore centrale, diciamo... Quindi c'è molta concorrenza quest'anno, eh? Eh lo so, da ogni parte c'è concorrenza. Io sono qua per lavorare, comunque farmi trovare pronto, poi sarà il mister che prenderà le scelte. Io spero di giocare sicuramente il più possibile e di dare una mano al Crotone. Anche per Bruno Martella, che in ogni caso è stato a disposizione con Di Francesco, con il Pescara due anni fa, giocare in Serie B sarà la prima volta. Io esordisco in Serie B, sono stato due anni fa in Rosa con Di Francesco a Pescara, ho fatto solo una panchina, ho fatto, però farla con Crotone, che è mister Drago Punta sui giovani, è molto importante. Senti, se parte Mazzotta sarà un'aredità pesante la tua? Pure mamma no, pure se dovesse restare, cioè il posto me lo vado a giocare. Hai la convinzione di calarti in questo ruolo, che probabilmente potrà essere da titolare e dare il massimo? Sì, visto che l'anno scorso pure a Pisa, come due anni fa, ho fatto sia il quarto di centro campo che il quinto, quindi la fascia la prediligo. Il Crotone cresce, sta crescendo, c'è ancora bisogno di qualche ritocco, però ritengo che si possa riprendere un buon campionato. Sì, assolutamente. Non so che i vostri obiettivi sono sempre quelli della salvezza, si parla sempre di salvezza. Vabbè, quella è la prima cosa, però sono state tre settimane dure qua, con carichi pesanti, ora stiamo smaltendo tutto il lavoro che abbiamo fatto per stare bene la settimana prossima per la prima di Coppa Italia. Il mercato calcistico e agli sgoccioli ci saranno ancora 15 giorni da raccontare, fatta eccezione della chiusura per Ferragosto e non è detto che a Crotone non possano esserci altri arrivi.